Oltre 8 imprenditori su 10, l'82%, a giugno dichiarano di non aver intercettato l'inversione di tendenza. Più di 1 su 2, il 51%, non rivela miglioramenti rispetto al 2014, mentre il 31% sostiene di avere subito un nuovo calo. E il grido d'allarme che lancia il vicepresidente provinciale della Convesercenti, Pietro Leonardozzi. Un fisco eccessivamente esoso e accesso al credito difficile, elevato costo del lavoro e dell'energia, assenze di politica integrata di trasporto delle merci, costi eccessivi della materia prima e disfunzione della burocrazia pubblica restano stacoli insormontabili per riprendere il giusto respiro e l'entusiasmo produttivo. Si parla di ripresa anche se minima, ma questa non è stata ancora percepita dalla maggior parte delle piccole e medie imprese. La ripartenza è purtroppo ancora limitata a una piccola parte del tessuto imprenditoriale, fa notare Leonardozzi. Il perdurare dello stato di difficoltà si ripercuote sulla capacità di investimento delle imprese. Solo il 18% ha assunto a tempo indeterminato nuovo personale e la metà potrò farlo solo grazie ai nuovi sgravi contributivi. Ma l'80% segnala di non avere ancora l'esigenza o la forza per prendere nuovo personale. Servirebbe una rimodulazione in direzione del rafforzamento degli sgravi fiscali e previdenziali per massimizzare gli effetti in questo periodo ancora difficile. La sofferenza delle imprese appare legata soprattutto all'eccessivo prelievo fiscale. Il fisco è di gran lunga la maggiore preoccupazione delle imprese. Una riforma del sistema che porti alla riduzione del carico fiscale è l'esigenza più stringente, secondo Convesercenti. È necessario che il governo vari una riforma del fisco che leggerisca il peso delle tasse, ma a questo va aggiunto un intervento urgente per la semplificazione, snellire la burocrazia e assumere interventi per una giustizia più celere. A tutto questo, secondo Leonarduzzi, va aggiunta l'esigenza di riqualificare l'accesso al credito, riducendo l'effetto dell'esposizione a garanzia degli imprenditori, introducendo il concetto di valorizzare la qualità dell'intervento e dei progetti, piuttosto che basarsi su una mera valutazione dei numeri. A tal proposito è importante che anche le banche locali siano più vicine alle imprese, con l'attenzione che ha avuto ultimamente la BCC di Prato-La Peligna. Ma non finisce qui, tuona Leonarduzzi. Sono necessari anche interventi nella Regione Abruzzo, tendenti all'incendivazione degli investimenti produttivi sulla base delle disponibilità finanziarie messa a disposizione dall'Unione Europea con la programmazione 2014-2020. È logico che nulla va lasciato al caso. È importante che si guardi con attenzione a quelle aree, come la Valle Peligna, che necessitano di investimenti straordinari in funzione delle politiche legate e poi integrati per lo sviluppo.